Che cosa si prova? Stiamo andando in città. La sola cosa che voglio che tu faccia... Lo so... Lo so, voglio che tu sia esattamente così come ti piace essere. Questo lo capiscono... soltanto i veri uomini. Che vuoi dire? Intendo che... Cazzo... C'è un sentimento che nessuno sembra conoscere. Ci potrebbe far comprendere... Noi stessi. Non vogliono, non vogliono. Come dire, coinvolgersi. Non metterti così sulle difensive.